Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna ha vietato il transito ai mezzi pesanti tra Barberino e Aglio. Sulla A12 per lavori ci sono code a tratti in direzione Livorno tra Carrara e Massa e tra Versilia e il Bibio per il raccordo Lucca-Viareggio. Sulla Fipili per lavori un chilometro di coda in entrambe le direzioni tra Ginestra-Fiorentina e Empoli-Est. È chiuso lo svincolo di Montelupo-Fiorentino in entrata in entrambe le direzioni e in uscita in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Pruneta. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!